La deputata europea Alessandra Mussolini ha riferito di essere stata attaccata stasera 26 febbraio da un passante a Strasburgo, Francia, dove partecipa alla sessione plenaria del Parlamento europeo. Ha condiviso un video sul proprio canale social dichiarando di essere stata aggredita mentre si dirigeva al ristorante con membri del suo staff. L'aggressore di lingua italiana l'ha colpita alle spalle. Una serie di insulti pazzeschi aveva una specie di stampella me l'ha data addosso alle spalle. C'è troppa violenza, sono stravolta, ha spiegato nel video. Come riporta al Corriere della Sera, la Mussolini sarebbe poi stata sottoposta a una visita medica, annullando la cena al ristorante per poi rientrare in albergo. A nome della delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo esprime solidarietà e vicinanza alla collega Alessandra Mussolini per la brutale aggressione di cui è stata vittima stasera nel centro di Strasburgo, scrive il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. Le forze politiche siano unanimi nella condanna, nessuno spazio a violenti e intolleranti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.